mamma come va bene cara hola e allora va ancora più bene bene adesso ti fa il grattino si adesso faccio il grattino dai tira fuori il grattino della borsettina per tutti i miei amici eccola allora eccola e via ecco qua questo è il giochino il giochino oggi mamma mia questo non avevo mai fatto questo morì ancora 5 euro devo mamma vai ciappa il soldino toma mamma soldino no attina giacqua va bene pronti e qua chi vede i calori come al solito mettiamo ok aspetta come se giova ti sapi grattano allora quello grande due per due visita ferma per due per due per due per due per due allora c'è un 16 12 in 30 46 niente ma si si deve l'attra per quello buon dai vai va avanti non vedo numeri uguali per cui penso che non abbiamo vinto no non ho ancora non ho ancora i numeri uguali niente prova sull'ultimo ho detto che non ci sei visto niente mamma cara di grave proprio qua eh non so aria va proprio mamma ok non so il 17 12 proprio che li mette per prendi mettiti questo grazie anche a questo e questo 36 asino che sei a comprarli e 31 31 31 niente 36 niente e 44 19 21 niente 17 13 22 e 41 e niente e via e ciccio al culo e niente a posto benissimo salutiamo ciao 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 ci vediamo domani sì una bella giornata una bella passeggiata che mi fa bene bene perfetto ciao